ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi il maxi milk di sempre e quest'oggi vi porto un colore un colore ragazzi spettacolare un colore che potrete trovare nella mia gru secondaria libera iscrizione entrate uscite come volete e lascerò anche il codice ex del colore in descrizione al video ragazzi quindi o l'una o l'altra o se siete proprietari di una gru mettete questo colore oppure se non avete una gru andate nella mia gru secondaria che lascerò il link in descrizione e vi diciamo vi aggiungete alla gru mettete raggiungere giustamente il livello necessario per aggiungere il colore ma lo so io quale cazzo sia adesso non mi ricordo e mettete questo colore niente di più semplice ragazzi questo è un colore veramente spettacolare come state vedendo anche nel colore del fumo questo è un arancione fluorescente un arancione penso non molti lo hanno in gru bellissimo arancione da vedere e per fare ciò bisognerà andare allo santos custom e una volta che vi siete comunque iscritti alla gru oppure avete cambiato il vostro colore più andate allo santo scasto a mandare a verniciatore andate a più e cambiate il colore della gru senza nessun genere di problema adesso io ho questo viola un po particolare perché sono nelle righe di roma e sulle righe di roma c'è questo viola però nella gru change color potrete trovare questo colore questo arancione molto bello molto vivo ragazzi che cambia tonalità a seconda dell'angolazione della luce molto a me piace tantissimo è spettacolare come colore poi con vari abbinamenti di colori non so come ho fatto io per esempio il verde lime e questo arancione sanno benissimo poi vedete anche voi insomma questo colore rimarrà più o meno per una settimana nella gru quindi avrete tutto il tempo e nulla ragazzi questo è il colore questo è il video io sono maxi al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti